Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo su Happy Wheels Mettiamo i livelli creati dagli utenti Pogoff e mettiamo Rating E... sì, this week E vediamo che cosa ci propone E lei costrai Più Costrai Ok, vediamo un po' Muori, cicciona Ma che c'è? Pro Ok, di un po' Vinciamo quei stats Un livello pieno di emozioni Pogoffite Allora, di un po' You suck E invece nozzuccia Noob E invece non sono noob C'ho un bambino conficcato nel culo No way E invece non sono no way Ok, va C'ho un bambino conficcato nel culo Ehm, ma che c'è? Ehm Seguono capoccia che ride Ehm 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 Guarda Guarda Ok, superiamo noob Ok, un altro bambino conficcato nel culo Ok, no niente Noob Poi No way Me Una spada del pene Ok, abbiamo un pene di spada Ok Sempre se riusciremo a superarla Superarla Cioè guarda Siamo diventata una macchina da guerra Ehi, pure lascia No, lascia no No, io voglio un saldo qui Ok No Ce l'ho attaccata la schiena Ok La sta bestemmia Ok Niente, dobbiamo stare attaccati Oppure no Il cogomero Che c'entra il cogomero No, dai Ricominciamo Oh no Che poco Come ammazzare una donna Allora Sempre se riesci a saltare Grit Quello perché c'era No Per poco Babbo ninja Come staccato le teste No, niente Ok, sì Nella mia bt V Dai Beh, basta Sono strugato Come morire Survive No 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 Ok Sono sopravvissuto Questo abbiamo già fatto Survive No Questo è quello che abbiamo fatto adesso C'è l'alzheimer Ma che c'è l'alzheimer Ah ok Quello che ti conti di nuove Quelli per lì là Il cuore salta Entra dentro Il cannone I livelli più compliegati Vi è più Ci sono Eeeh Eh, volevi Suino Ok Mmm, cibo No Ho sbagliato Ho aperto un'altra pagina a casa The trap Vediamo un po' Please stop it Ma cos'è? Aspetta Forse ho capito No No Non mi piace Ah Ma dove vuoi rimanere così? Ok Eccoci Non riesco a andare più ai comandi Ok Qua dove c'è? Eh, volevi vincere I like train Left click Ah, ok Mi devo sganciare Ok Non è stato Una No Ah, no Forse Eh, infatti Devo spingere qualcosa Ok Ok ragazzi Siamo tornati A questo punto qui Sempre se mi fa passare Ok Adesso devo cliccare Col mouse Non devo spingere nulla No No, perché? Non va Ah, ok Adesso va Ci buttiamo Che bello 3D Pover Fight 2 Ok Eccoci qui No Volevi Suino No Ok Ok Eccone quest'altro qua Con la spada Che metti già Tra i maroni Resisti Ok Ok L'ho affidata poco male Poco dentro Ah, no Ok Staccati Dai Ok Ci siamo staccati Poi Babbo Bastardo Dai Facciamo l'ultima tentativa Eccoci qui Eccoci qui Girl glitch Girl glitch Vediamo un po' Che belli belli troll Allora Mettiamo Di sempre Di sempre Sennò Questa è un'altra Che fanno Come schifo Bold troll Che Questa è un filetto Tipo filetto Anzi è filetto allora mi serve quello 5 no 9 ah no ok no mi serviva io non so cerchio mi serve un 3 no no se più 5 me ne vado ok non è che abbiamo noi 5 no veramente ci serve 5 ci serve 3 sono stupitacci non ha vinto nessuno dei 2 no forse ho vinto io si ho vinto io è vinto io ok vinto pure doppio lego style plummet no questo l'ho già fatto glass level vediamo un po' mi sembra che una volta l'ho fatto già da solo però rifacciamo partiamo indietro boom spacca tutto spacca spacca che culo guarda guarda che sta qua ah ok bottiglie che girano che è pure pirano le bottiglie illuminati come fuori no aspetta ce n'è rimasta uno io per previsione black pack dai ok facciamo l'ultimo cerchiamo qualcosa di figo happy with war vediamo un po' no che figata la molato cioè è troppo epico e se volessi giocare sarebbe ancora meglio e lui vince tutto no ok allora ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto vi ricordo di iscriverti al canale se ancora lo avete fatto e di mettere mi piace al video e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao